ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale youtube video di oggi dedicato alla christmas edition quindi one punch man ovvero questa variant di one punch numero uno fatta appunto da panini e messa in questa specie di pacchetto regalo infatti è uscito appunto il mese di dicembre come si può vedere si è carina questa idea che oltre alla variant abbiano fatto proprio pacchetto regalo pacchetto in occasione del natale perché appunto se magari qualcuno voler regalarla come concetto di per sé è molto carino allora prezzo di 9 euro e 90 e adesso andiamo a scartare il nostro pacchetto regalo e vediamo un po come si presenta questa variante visto insomma che le variante almeno del numero uno di one punch man le ho tutte anche questa ci tenevo ad avere allora andiamo a vedere eccola qua allora all'interno c'è solo il manga ovviamente allora sì ecco magari è carino che ha questo effetto un po metallizzato tipo fluorescente poi metallizzato e poi c'è anche proprio in rilievo la copertina qui infatti c'è tipo le rocce in rilievo uguale appunto sia davanti insomma che dietro c'è anche la costina si è davvero fatta bene sia una bella variante devo dire poi vabbè qui ovviamente il resto no il resto assolutamente penso proprio di no andiamo a vedere no ma è uguale sì sì assolutamente comunque sia appunto è il numero uno ora appunto io l'ho recuperata e come detto tutte le variante del numero del numero uno di one punch man le ho appunto mi faceva piacere avere anche questa diciamo più che altro per collezione per collezione esatto beh davvero dai una bella variante bella cover magari rispetto alla solita con uno stazione diversa questa qualcosina in più ecco sì questi effetti appunto un po in rilievo un po questa cosa appunto tipo luccicante fluorescente bellina dai mi piace quindi sono insomma soddisfatto di averlo di averla acquistata quindi direi ragazzi che per questo video di questa variante di one punch man numero uno è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao